Allora Giuseppe benvenuto, questo caloroso applauso è l'espressione e il tributo che ti spetta assolutamente per tutta la tua carriera e per questo bellissimo film. Allora Marina l'ha presentato dal punto di vista ufficiale, io lo vorrei presentare come amico, l'altro giorno gli ho detto senti un po', ma ti chiamano Peppuccio, mi posso permettere o no? E lui mi ha detto una cosa bellissima, qual persona è? Mi ha detto gli amici mi chiamano tutti Peppuccio, tu sei mio amico e quindi chiamami Peppuccio, questo è stato molto bello, veramente molto bello. L'altro piccolo aneddoto che devo raccontare è che quando me l'hanno presentato io subito ho pensato alla parrocchia e quindi ho detto devi venire nella nostra bella parrocchia, non era questa, era un'altra parrocchia e lui mi telefonò tre giorni prima, stava proprio malissimo, dice senti Andrea sto male, gira l'influenza, io non posso venire, dico come puoi venire, abbiamo messo le rogandine, l'abbiamo detto, non è possibile, devi venire, vabbè rimandiamo ogni una settimana, dice no poi inizio a girare, non posso, dico guarda noi ti veniamo a prendere dovunque sei, ti prendiamo in qualsiasi condizione dopo una settimana e ti portiamo, quando è arrivato dice Don Andrea stalker number one, mi ha così definito. Confermo, confermo. Però quello che mi ha rapito subito di Giuseppe è il suo tratto veramente semplice e umile, domani parleremo di umiltà, è il Vangelo proprio della Domenica e questo colpisce che è tipico dei grandi. Io adesso farei vedere un attimo un video particolarmente significativo della carriera di Giuseppe e poi gli facciamo una domanda. Parte il video. Ecco un video da brividi, ha portato l'Italia in America, ha vinto l'Oscar, la prima domanda che ti faccio, che cosa hai provato? Domanda scontata ma secondo me importante. Beh, mi ricordo fu un momento di grandissima emozione perché lì non si sa niente, tu lo sai proprio in quel momento lì, quindi noi l'abbiamo appreso nel momento in cui hanno aperto la busta e quindi fu veramente un momento molto emozionante, molto elettrico e basta. Senti un'altra cosa Giuseppe, hai avuto dei momenti di sconforto, di solitudine, di difficoltà e hai mai pensato che quella poteva non essere la tua strada? Come li hai superati se li hai avuti? È sempre stato solo un successo oppure c'è stata tanta lotta, sacrificio e anche momenti bui? Beh, momenti duri sempre, specialmente all'inizio, io ero venuto a vivere a Roma, non ero proprio giovanissimo perché avevo già 27 anni, però insomma non ero troppo grande e all'inizio fu difficile perché non avevo molte conoscenze nel mondo del cinema, anche se conoscevo il cinema, lo seguivo ormai da ragazzino, avevo letto tutto quello che mi era stato possibile, quindi all'inizio fu complicato e anche nel corso perché il nostro messaggio è un messaggio molto difficile, lo devi conquistare sempre, non c'è mai un momento in cui tu puoi pensare d'avercela fatta, appena pensi di avercela fatta sei fregato, quindi devi sempre pensare che questo mestiere te lo devi sempre conquistare giorno dopo giorno lavorando e quindi i momenti di difficoltà io li combatto impegnandomi di più nel lavoro, però non c'è niente di scontato, è sempre un cercare di fare sempre il meglio. Senti noi ti ringraziamo perché sei qui e veniamo al film che abbiamo visto questa sera, è lui che mi ha chiesto di fare delle domande, quindi poi apriremo anche alla platea per delle domande, ti ringraziamo, ringraziamo la Lucky Red, ringraziamo l'Amberto ancora che abbiamo presentato, che ci dà questa possibilità. Ti vogliamo dire, questo film apre per noi un momento molto importante, è stato inaugurato il 7 quest'auditorium, vuole diventare un po' il centro culturale della nostra parrocchia, vuole diventare il modo con cui comunicare la bellezza della vita e il cinema in arte che lo fa e la bellezza è statica, la bellezza avvicina a Dio, quindi credo che sia un bellissimo strumento non solo di aggregazione tra di noi, ma anche che ci fa riflettere, pensare, crescere e certamente promuovere. Questa sarà una serie, grandi registri italiani, tu la apri e grazie di essere venuto qui. Questo film ci ha lasciato, almeno questa è la sensazione che ho avuto io, incollati allo schermo. Io ti dico sinceramente, non ho una predilezione per i documentari. Mi avevano detto, guarda è un po' un documentario, è un film documentario e quindi mi aspettavo qualcosa che poi poteva sembrare anche un po' pesante, poi data la lunghezza. Invece ti dico, la sensazione che si ha che vieni proprio rapito dallo schermo, occhi incollati e io guardavo un po' la sala, tutti stavano con gli occhi incollati, non si voleva perdere una battuta di tutti quello che dicevano e poi tu veramente in maniera magistrale hai saputo far girare questa telecamera. Peraltro una volta che stavo all'auditorio e mi avevate invitato a sentire Ennio Morricone, tu stavi proprio, ci siamo visti, tu stavi proprio girando un pezzo di questo film, quindi per me è stato ancora più emozionante. E la bellezza appunto di questo film è entrare proprio nella vita di questo maestro, però tu hai ripercorso pure tutta la storia del cinema, cioè c'erano dei nomi che fanno spavento, da brivido, nomi che hanno segnato la storia del cinema italiano e non solo. Ma tu che rapporto avevi con Ennio Morricone? Perché questo tributo? È un tributo più a lui, è un tributo al cinema, è un tributo alla musica? Come ti è venuto in mente? C'era un rapporto personale con lui? Ma sai, il rapporto con Ennio era un rapporto di grande fiducia e anche di grande amicizia, noi ci siamo frequentati per 32 anni e abbiamo lavorato, io nel corso di questi 32 anni tutto quello che ho fatto l'ho fatto sempre con lui per quanto riguarda le musiche e quindi c'era un rapporto di grande frequentazione, ti ripeto, era diventato quasi un rapporto familiare in qualche maniera, però questo curiosamente non ha un legame con la decisione di fare questo documentario, infatti ti deluderò, io non ho mai pensato di fare questo documentario, non è stata un'idea mia e non avevo mai pensato, vennero due giovani produttori, due ragazzi a propormelo e quindi lì per lì capì che in effetti su Ennio si potrebbe fare qualcosa di importante, chiesi loro come condizione solo due cose, una che Ennio accettasse di raccontare se stesso, due che non mi ponessero limiti nell'uso delle scene tratte dai tanti film che lui aveva musicato, questo perché? Perché non ho mai amato i documentari sul cinema dove si sente l'impossibilità di far vedere le sequenze dei film perché i diritti costano troppo e quindi la maggior parte delle volte sono costetto a far vedere delle fotografie, delle immagini fisse perché le sequenze sono troppo costose e tutte e due queste condizioni sono state accettate, Ennio accettò di raccontare se stesso e quindi mi sono trovato a realizzare questo documentario poi naturalmente trovando le ragioni per farlo, quindi l'idea non era stata mia, però poi l'ho fatto come se fosse, anzi era una cosa mia, non ho mai pensato di raccontare la storia del cinema, la storia della musica, non erano queste le istanze, siccome conoscevo bene Ennio sapevo che il pubblico di tutto il mondo conoscesse le sue musiche ma non conoscesse lui e quindi ho pensato che la cosa più interessante sarebbe stata quella di cercare di svelare lui come era nella vita di tutti i giorni e come era anche nel suo rapporto con i propri tormenti di musicista, di uomo, questa è stata la bussola che ho seguito, ovviamente sapevo che si trattava di raccontare la figura di un grande compositore del Novecento, di un uomo straordinario, questo io ne sono testimone perché ripeto l'ho conosciuto per molti anni e anche di raccontare la storia di un mio carissimo amico, quindi queste cose si sono sommate insieme e il film è venuto fuori, io non ho mai pensato realizzandolo di fare un prodotto che ambisse ad avere un rapporto speciale col pubblico, non ho mai neanche pensato che il film potesse avere un rapporto speciale col pubblico, che potesse essere distribuito nei cinema per più di uno o due giorni come in genere si fa con gli eventi speciali, questo in qualche maniera mi ha anche portato forse a non pormi dei limiti, l'ho raccontato come mi veniva istintivamente, questo spiega anche un po' la durata un po' anomala perché un documentario di due ore e mezza insomma è un po' fuori da certi canoni anche se se ne fanno tanti anche di durate così un po' fuori dalle norme, però ripeto non mi sono posto il problema del, sì forse me ne sono posto uno, come cercare di raccontare un compositore evitando quegli aspetti della musica che la gente che non conosce la musica non può capire se tu l'affronti in un modo troppo tecnico, ecco lì mi sono sforzato un po' di trovare un equilibrio che consentisse di avere un accesso semplice con il mondo della musica e in particolar modo con il mondo della musica di Morricone. Grazie. Farei girare il microfono. Comincio io sperando di dare il buon esempio sulla brevità della domanda. Grazie maestro stasera ci siamo veramente emozionati tantissimo come d'altra parte tutti i suoi tutti i suoi lavori a cominciare dal nuovo cinema paradiso la smetto con un'emozione profondissima. Mi colpisce molto quello che ha detto un intervistato e cioè Morricone era la normalità che è diventata eccezionale e poi mi ha colpito molto quello che ha detto lei adesso collegato a quello appunto che più volte Morricone ha ripetuto nel film. Io non volevo, addirittura lui non voleva neanche fare il musicista, poi non voleva fare la musica da film, lei non voleva fare questo documentario eccezionale. Allora la mia domanda è questa, la mia domanda è questa, quando c'è un talento di questa portata lei sente mai che è qualcosa di più grande di lei, che lei è uno strumento per portare fuori questo talento e arricchire così quelli che sono intorno a lei? No, no, non mi sono mai sentito, non ho mai sentito il senso della predestinazione, non mi sono mai sentito uno strumento. No mi scusi, io intendo il contrario, che a sua insaputa lei si accorge che c'è qualcosa di più grande di lei che viene fuori. Beh, non a mia insaputa, io quando affronto un progetto sento quasi sempre di essere alle prese con qualcosa di più grande di me, in tutti i film che ho fatto, addirittura ci sono dei momenti durante la lavorazione che in genere è abbastanza complessa, in cui addirittura hai la sensazione di non essere all'altezza, di non essere sufficientemente adeguato, però in genere questo senso di squilibrio rispetto al progetto che ti sei posto innesca in te appunto la determinazione a fare il meglio. Io dico sempre che in questo mestiere se tu ti senti sicuro di fare quello che stai facendo molto probabilmente sbagli. È l'insicurezza, il sentirsi non all'altezza che ti dà più probabilità di fare bene. Quindi non bisogna mai, da questo punto di vista la lezione di Ennio è stata importantissima per me. Lui anche quando si trovava a scrivere la cosa più umile di questo mondo, lo faceva sempre come se da quella cosa dipendesse un po' tutta la sua esistenza. Che fosse un concerto, che fosse una sinfonia, che fosse un pezzo di musica assoluta o la partitura di un film importante o anche di un film semplice o una sigla commerciale o qualunque... Lui l'affrontava sempre come se da quella composizione dipendesse tutta la sua vita. Da questo punto di vista è stato un esempio e una lezione. Quindi bisogna sempre affrontare le cose consapevoli che si tratti di progetti più grandi di se stessi. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Io sacrificherei tutte le domande che ho e i commenti sul film perché conosco i suoi film e le apprezzo da sempre. voglio semplicemente ringraziarla per questa immensa emozione che arriva attraverso l'emozione di cantanti, registi, produttori, musicisti. Credo anche la sua e la nostra che siamo qua. Grazie per essere qui. Grazie a lei signora, grazie. 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 Buonasera. Buonasera. Lei ha fatto un film geniale su un genio, a mio avviso. Nel senso che, non credo che sia un documentario, è molto di più di un documentario. Forse è un film biografico o autobiografico che tra l'altro ripercorre 60 anni di filmografia che credo, ecco, anche questo abbia emozionato moltissimo la platea perché molti di noi, soprattutto quelli che anagraficamente lo hanno potuto fare, hanno rivisto veramente tantissime cose che sono dei ricordi ormai della nostra giovinezza. Volevo chiederle due cose. La prima è che non ho capito bene qual è il momento in cui la musica si accoppia al film perché in realtà ci sono anche delle posizioni differenti. I fratelli italiani hanno detto a un certo punto che loro comunque i film li fanno con una musica, salvo poi arriva Morricone e cambia tutto. E loro poi naturalmente seguono naturalmente il consiglio. Lei invece, per la leggenda del pianista sull'oceano, ha detto che praticamente andavano insieme, no? La descrizione della sceneggiatura e la composizione della musica. Quindi forse non c'è una regola oppure se c'è una regola ognuno ha la propria. Comunque i risultati sono eccezionali in ogni caso. Quindi è interessante capire questo però il risultato è fantastico. Ci sono sì diverse possibilità, diversi metodi. In genere quando si gira un film normalmente non c'è già la musica. Però quando i registi montano il film spesso sentono il bisogno di un supporto musicale. spesso, ma questo nel film è raccontato devo dire, spesso siccome ancora appunto la musica non c'è, addirittura certe volte durante il montaggio non si sa ancora chi sarà il musicista, i registi complici, i loro montatori utilizzano musiche di repertorio, musiche di altri film o musica classica e trovano quello che in qualche maniera può funzionare. Poi quando finalmente scelgono il compositore gli chiedono di imitare quella musica, che è la cosa che Morricondo non ha mai voluto fare, che è il caso dei fratelli italiani che viene raccontato nel film. Il caso del pianista sull'oceano è diverso. Cioè in quel film si raccontava la storia di un pianista, quindi nel film c'era già un uso della musica realistico. Cioè quando io ho girato le scene in cui il pianista suona io la musica la dovevo già avere. Quindi in quel caso il compositore ha dovuto già comporre tutte le musiche realistiche del film prima che io girassi. Questa è un po' la differenza. Questo succede sempre quando si racconta qualcosa che ha a che fare con la musica. salvo che tu non faccia un film su Mozart, le musiche esistono già, allora il regista che ha fatto il film su Mozart quando ha ripreso Mozart o altri direttori d'orchestra che eseguivano le composizioni di Mozart le ha dovuto usare per forza. Ecco, grossomodo queste sono le due grandi divergenze. Dopodiché ci sono varie metodologie diverse. Ecco, ci sono registi che decidono di affidare al compositore il concepimento delle musiche già prima ancora di girare. Questo è successo non spesso nella storia del cinema, però qualche volta è accaduto. Sergio Leone l'ha fatto un paio di volte nei suoi film, come l'aveva fatto Gillo Pontecorvo una volta, come l'avevano fatto altri, come ho fatto io spesso con Morricone, anzi quasi sempre. Quindi ci sono vari approcci, però qualunque di questi approcci, tutti questi approcci convergono alla soluzione ideale, cioè quella di trovare l'essenza musicale che corrisponda all'anima del film. È una cosa difficile questa, ci si arriva talvolta poco per volta, talvolta non ci si arriva mai. Ci sono dei film la cui musica tu senti che va da un'altra parte, però il film ormai è quello e rimarrà così per sempre. Come ci sono invece dei film, come dice Morricone, che avevano già la musica in se stessi, aggrappata al film stesso. È un mondo, per certi versi, sfuggente, ineffabile, quasi metafisico e forse anche attraente per questo. Buonasera maestro, grazie di essere qui e grazie a Don Andrea che l'ha invitata. Grazie a Don Andrea. Mi chiamo Mino e sono un attore doppiatore. Fra l'altro ho avuto l'opportunità e il piacere di doppiare un suo attore nel film La Corrispondenza, George, Ian Cairns, che penso fosse stato il docente, un professore astrofisico di Jeremy Irons. E faccio un passo indietro al nuovo Cinema Paradiso. Alfredo, Philippe Noiré, doppiato magistralmente da Vittorio Di Prima che divenne poi suo amico. E questi nomi che io le cito sono tutti i miei amici. Il grande Cesarino Barbetti, Vittorio Di Prima. Grande amico, grande amico. È vero, è vero, un grande maestro che ha influito anche sulla mia carriera. Ciò che voglio ricordare, rievocare, quel dialogo tra Jacques Perrin e Brigitte Fossé in quell'autoveicolo si rivedono dopo più di trent'anni e l'emozione che lì scaturisce e che mi ha trasmesso è stata eccezionale. Eccezionale. E a difesa di ciò, ecco, io vorrei sapere, Dalia, personalmente, visto che nel suo ultimo parto, Ennio, ho visto che ha inserito delle clip di film molto famosi, brevi, brevissimi estratti, però di scene con la voce originale dell'attore. Come mai non ha scelto il doppiaggio italiano? Grazie. Lei mi spiazza perché la maggior parte dei film sono in italiano, nella versione doppiata in italiano. Forse gli intoccabili di Brian De Palma ho messo la versione in inglese, se ne sarà qualcuno, ma lì ho dovuto riferirmi all'edizione originale del film, che sono casi eccezionali, la maggior parte dei film mi ricordo benissimo di averli utilizzati nella versione doppiata in italiano. probabilmente quei casi in cui ho dovuto mettere la versione originale l'ha talmente colpita da averle dato la sensazione che fossero. Buonasera maestro, grazie di essere qui. Salve. Nel suo docufilm meraviglioso mi ha colpito un aggettivo riferito alla musica di Ennio Moricone, Eterna. Un aggettivo che non è casuale per lui che era profondamente romano e che ha lavorato con un regista molto romano come Sergio Leone. Ora la domanda è, se dovesse descrivere Ennio Moricone con tre aggettivi, quali sceglierebbe? Grazie. Semplice sicuro, complicato sicuro, determinato, perché Ennio era veramente... Genio lo dicono talmente tanti che non lo voglio ripetere anch'io, a Ennio tra l'altro darebbe fastidio, si imbarazzerebbe e quindi non lo voglio usare. Però semplice e complesso allo stesso tempo sì, perché Ennio era semplicissimo ma al contempo una personalità molto articolata, molto complicata. e forse questi erano gli aspetti attraenti della sua personalità. Lui componeva talvolta, è successo più di una volta, ci sono delle sue composizioni che conoscono in tutto il mondo e che molti dei suoi colleghi hanno studiato per cercare di capirne la chiave, in qualche maniera, della forza comunicativa. E quando gli andava a chiedere, Ennio, ma questo pezzo... E lui dice, no, ma questo è un esercizio di intervalle di sesta. Cioè, lui... semplificava sino quasi a sminuire il senso di cose sue che invece agli occhi di altri apparivano come cose incomprensibili, complicatissime, geniali. Questa è una delle cose che mi colpivano molto della sua personalità. Buonasera e grazie. Io ho visto il film due volte, quindi cinque ore. No, però volevo dirle questo, è un po' nella scia della domanda di prima. Cosa avrebbe pensato Ennio Moricone vedendo questo film? Di sicuro mi avrebbe detto che c'è troppa musica. che c'è troppa musica, che lui sosteneva e aveva ragione che la musica andasse utilizzata con parsimonia nel film e che un brano musicale fosse attraente in misura direttamente proporzionale al silenzio che lo precede. Lui diceva che più silenzio c'è tra un brano e l'altro e più interessante risulterà all'orecchio del pubblico. Io questa regola che abbiamo discusso con lui molte volte e che io riconosco, qui l'ho proprio calpestata totalmente. Perché in questo caso, e questo lo posso dire, non era un film, era un documentario, un film, chiamatelo come volete, su un compositore. Io dovevo raccontare le sue musiche e quindi dovevo anche in qualche maniera trovare un po' la linea che legasse un po' tutto il suo percorso musicale. Quindi lui sicuramente mi avrebbe detto che c'è troppa musica, però forse alla fine l'avrebbe anche accettato. Buonasera. Salve. Senta, io vorrei farle due domande. La prima è questa qui. Un intervistato del film a un certo punto dice questa cosa. Lui voleva cercare di affossare la vena melodica, ma più cercava di farlo, più questa gli emergeva. Allora io le chiedo, per caso dietro questo c'era il suo grande amore per la moglie? Perché mi sembra che fin dai primi tempi la moglie ogni tanto gli diceva, mi raccomando Ennio, fai qualcosa di melodico. Questa è la madre. Ah, la madre. Ecco, com'è quindi riemergeva sempre questa cosa? Poi un'altra cosa volevo chiederle. Tempo fa io sentì in televisione un grande critico d'arte che diceva la società nostra contemporanea non dà più spazio all'arte figurativa perché siamo talmente bombardati da altri tipi di immagine. Un Raffaello, un Michelangelo, se nascessero oggi farebbero i registi. Lei cosa ne pensa? Allora, andiamo in ordine. La prima domanda. Lei tocca uno degli aspetti più misteriosi della personalità di Ennio Compositore. Cioè lui, non è che non amasse la melodia, ci mancherebbe altro, però lui riteneva che non fosse l'aspetto più importante dell'attività di un compositore, quella di concepire melodie. Lui riteneva che non fosse la cosa più importante. Infatti tutte le volte che gli si chiedeva, Ennio fai un pezzo orecchiabile, lui la faceva ma non era la cosa che lui entusiasmava maggiormente. C'è da dire, e qua sta il mistero, che lui le faceva con una immediatezza sconvolgente. Io sono stato testimone non una volta, decine di volte. Ennio, qua ci vorrebbe una cosa semplice, che arrivi su, un po' cantabile, che il pubblico può ripetere. Lui picchiava un pezzo di carta e la faceva. Poi la dirigeva e tu rimanevi. Scomio conosceva abbastanza bene la sua produzione musicale. Potevi pensare, forse ha modificato una cosa che aveva già in mente. No, non era così. Quindi gli veniva proprio immediato. E tuttavia per lui non era la cosa più importante. Forse in questo, sì, c'era la figura della madre. La madre in qualche maniera gli ha sempre ripetuto quello che poi per tutta la vita gli avrebbero chiesto i produttori cinematografici e i registi, di fare pezzi orecchiabili, pezzi facili, canzoni. Mentre lui era più attratto dalla musica assoluta, dalla musica più complessa. E tuttavia lui già agli inizi della sua carriera, e questa è la sua grande intuizione che secondo me modellerà un po' tutta la sua attività musicale, lui capisce immediatamente che c'era una linea di demarcazione eccessiva tra la musica assoluta, la musica colta, e la musica popolare. Ecco, lui capì sin da subito che bisognasse ridurre questo confine così drastico come rendendo più colta la musica popolare, cosa che lui ha fatto sempre, anzi, soprattutto nella musica per il cinema, e dall'altra parte cercando di rendere più accessibile al grande pubblico la musica colta, la musica difficile, che all'epoca invece doveva essere necessariamente complicata, respingente quasi. Ecco, lui in questo ha svolto una funzione che gli dà un ruolo proprio nella storia della musica del Novecento importantissimo. Andiamo alla seconda domanda. Sì, forse Michelangelo, Raffaello, Giotto, forse oggi difficilmente potrebbero resistere alla tentazione di fare anche il cinema. Probabilmente lo farebbero, però io ci aggiungo un anche, nel senso che probabilmente continuerebbero a fare l'arte che evidentemente faceva parte della loro personalità, del loro DNA, ma difficilmente avrebbero resistito alla tentazione di applicare questa loro attitudine naturale al racconto delle immagini. Del resto, il linguaggio del cinema, perché è speciale? Perché racchiude in sé tutte le arti, compresa quella figurativa. Tutto c'è nel cinema. La scultura, la pittura, il teatro, tutto. Che era un po' la filosofia di Wagner. Lui aspirava a una forma d'arte che racchiudesse in sé tutte le forme dell'arte. E questo è il cinema in qualche maniera. Scusa Carlotta, mi innesso un attimo. Ecco perché abbiamo deciso di conoscere i registi e conoscere Giuseppe Tornatore, ci tenevo in modo particolare. Ecco perché forse il primo incontro ufficiale che abbiamo avuto qui in parrocchia l'abbiamo avuto col cinema e con questo tipo di cinema. perché io ho capito qualcosa, forse. Ho capito che un regista è grande quando sa posizionare bene la telecamera davanti a un personaggio, a un soggetto, a un momento particolare. Questo mi sembra che sia... Penso a delle immagini filmiche, penso a dei momenti di alcuni film che ci prendono, ci strappano completamente il cuore e ce lo buttano oltre. E credo che voi abbiate e ci donate a noi, mettendo la telecamera in quel modo, uno spaccato, ci ha donato uno spaccato della realtà e di quello che si vede con un occhio del tutto particolare che ci fa pensare, riflettere e poi ognuno lo rielabora e lo interpreta come crede. Io ti dico di questo film un punto che a me è piaciuto tantissimo quando lui si commuove e tu l'hai tenuta la telecamera lì davanti, si commuove perché, lo dico male, ma allo scrupolo di aver tradito il suo maestro e allo scrupolo di fare troppa musica non assoluta ma per il cinema, quasi una diminuzione della musica considerata così pura. Allora, per uno che non è un tecnico del mestiere o del lavoro, di questo lavoro, di questo tema, per me è stato un momento sconvolgente perché ho pensato guarda anche che combattimento lui aveva perché in quel momento si commuove veramente sinceramente e quella era l'espressione di un'inquietudine interiore forte che poi gli fa decidere per la libertà di continuare a farlo, a fare musica per il cinema. Ma per me che non ne capisco niente, non sono il maestro di Lella e non sono altri che stanno in sala, noi l'abbiamo sempre conosciuto perché ha fatto bellissime colonne sonore e l'abbiamo sempre apprezzato per questo e lui invece magari aveva questo turbamento interiore. Questo fa parte proprio del mistero dell'uomo. Penso al Cardinal Martini che in un'intervista dice io non ero mai soddisfatto delle mie omelie. Ma guardate, è forte. Non sono mai soddisfatto una volta di un'omelia del Cardinal Martini. E questo penso che sia un tratto dei grandi uomini e lì tu l'hai ripreso in quel momento e ci hai fatto vedere uno spaccato di umanità che probabilmente noi, non addetti ai lavori, non avremmo mai capito e mai compreso del mistero dell'uomo. Ma sai, su una cosa che hai detto io non sono d'accordo. Cioè la cosa più importante nell'attività di un regista non è dove posizionare la macchina da presa. Sì, è decisivo, ma credo che non sia la cosa che stabilisce se tu sei un grande regista oppure no. In fondo ti deluderò. Credo che in un film la cosa più importante non sia la bellezza. È più la storia. Poi una storia, se funziona, se è importante, se coglie l'interesse del pubblico, può anche essere realizzata bene o meno bene. La cosa che arriva soprattutto è la forza della storia. I personaggi, i loro tormenti. Nel caso di Ennio, io non mi sono mai detto, io non è che sapevo che Ennio si sarebbe commosso quando ha raccontato quella cosa lì. Quello è stato una lunga intervista fiume che è durata svariati giorni in cui lui si è raccontato con la stessa semplicità con cui per anni siamo stati insieme a raccontarci, soprattutto lui, perché io gli chiedevo di raccontarmi la sua vita, la sua professione. E quindi è stato più importante aver cercato di metterlo a suo agio nel rapporto con me che non l'aver deciso dove mettere la macchina da presa. In tutta la sua intervista ci sono solo due posizioni. è sempre la stessa. Non ho mai pensato di cambiare, di creare un meccanismo virtuosistico nel modo di riprenderlo, anzi proprio sono due inquadrature, sempre le stesse, alternate l'una all'altra, talvolta per esigenze anche di ritmo. Però è stato più l'essere andato vicino alla sua essenza, alla sua storia, che non l'aspetto tecnico come lo inquadro, come lo illumino. Non è stato questo la cosa più importante. E quindi, ritornando all'altro argomento, io penso che sia più importante quello che tu racconti più di come lo racconti. È importante anche quello. Se tu sbagli tutte le inquadrature del tuo film, è difficile che tu riesca a condurre in porto quello che volevi raccontare. Però dall'altra parte tu puoi fare anche un film di meravigliose inquadrature, ma se non c'è sotto una storia importante, che racconti noia e basta. Mi viene da dire Don Andrea, meno male che fai il parro che non fai il regista. Anche perché di inquadrature le potrei far vedere. Buonasera maestro, grazie intanto per essere qui. Mi ricollego a quello che avete detto poco fa, nel senso che lei è passato tantissimo tempo con il maestro Morricone per girare questo film. Le volevo chiedere se c'è stato un qualcosa di particolarmente difficile durante il rapporto che aveva installato con lui, cioè durante le riprese, durante l'intervista in sé proprio con lui e se invece c'è stato un episodio nel corso degli anni che le è rimasto più impresso appunto degli incontri con lui. Grazie. Lei si riferisce a questo film? Non c'è stato nessun momento difficile con lui proprio mai nel senso che voglio dire io ripeto conoscevo Ennio da tantissimi anni e sapevo anche che quanto fosse quanto a distanza ci fosse tra il suo se stesso è l'immagine pubblica che veniva fuori dalle interviste che in genere gli facevano. Lui non amava le interviste. La maggior parte delle volte erano interviste di giornalisti della televisione che in genere ti pongono domande ansiogene, pretendono risposte brevi perché non hanno molto spazio per i loro servizi questa cosa lo indisponeva. Allora la maggior parte delle volte Ennio nelle sue interviste risultava contratto, freddo, talvolta addirittura respingente, non era molto simpatico. Io invece sapevo che lui lo era moltissimo. Allora mi ero posto questo obiettivo di riuscire a recuperare nel suo modo di raccontare a se stesso quel clima umano semplice che io conoscevo bene. Non ho dovuto faticare molto a raggiungere questo obiettivo perché è stata una chiacchierata. Io non ho mai cercato durante questa intervista a Fiume di fargli dire quello che mi serviva che secondo me è l'errore che un intervistatore deve fare. quando tu intervisti una persona devi cercare di creare delle situazioni che determinano in lui la disponibilità a raccontare a se stesso. Non devi pretendere da lui che dica quello che serve a te al tuo servizio al pezzo che tu hai già prestabilito. Altrimenti lui non attingerà alla profondità della propria essenza. Quindi per me è stato facilissimo e non ci sono stati momenti di difficoltà. Nel corso della nostra carriera momenti di difficoltà qualche volta abbiamo faticato in qualche film a trovare la chiave giusta ma era una difficoltà che gestivamo insieme e quindi tra le volte io gli portavo il copione perché gli chiedevo di scrivere i temi prima che girassi e quindi ci confrontavamo sul copione non sempre era facile c'erano delle storie che evocavano in lui immediatamente il clima musicale mi faceva sentire mi proponeva delle cose e io poi gli dicevo quello che pensavo e quindi scattava questo rapporto in altri casi era più difficile la ricerca allora lì faticavamo un po' di più ma era forse oggi me le ricordo come le esperienze più belle proprio quelle in cui non eravamo totalmente soddisfatti e quindi magari lui mi chiamava ogni 48 ore per dirmi domattina passa e io la mattina passavo alle 8 e lui mi faceva sentire il frutto dei suoi tormenti delle sue riflessioni e io con le mie riflessioni magari gli complicava ancora di più la vita però era molto divertente direi l'ultima domanda riflettevo io buonasera maestro grazie ancora riflettevo sul fatto che in un periodo in cui l'economist ci descrive come ancora il paese della pizza e il mandolino è stato veramente un punto d'orgoglio vedere il suo Oscar i vostri Oscar e quindi quanto è bello è stato bello sentirsi italiani però pensavo allora quanto è importante è stato importante è importante secondo lei credere nei propri sogni nonostante le tante difficoltà in fondo abbiamo visto come anche Morricone ha dovuto faticare per ottenere quegli Oscar e poi seconda domanda brevissima quanto secondo lei il cinema deve avere per poter combattere se così possiamo dire con le tante piattaforme le tante serie che sono in qualche modo accattivanti per il pubblico giovanile grazie per quanto riguarda la sua prima domanda le posso dire una cosa questo mestiere che è molto difficile non lo si fa pensando ai premi cioè Morricone quando ha cominciato non ha il suo obiettivo non era quello di vincere l'Oscar la cosa non l'ho mai interessato e anche io cioè se tu fai un film pensando ai premi che puoi vincere con quel film non farei mai un buon film e questo mi permetto di dire che è una regola assoluta la seconda cosa ma sai io non la vivo come una guerra questa tra il cinema e la piattaforma perché sia il prodotto cinematografico che il prodotto seriale è basato sul linguaggio audiovisivo che è unico e quindi è una guerra commerciale che col tempo secondo me si dipanerà e si si allinerà in questo momento siccome il cinema vive questo questa questa stagione di grande difficoltà cioè da un lato si produce molto dall'altro lato il sistema tradizionale di diffusione dei film sta vivendo un momento drammatico perché tu vai al cinema e non c'è nessuno e questa è una contraddizione cioè si lavora molto si produce molto però al cinema ci va poca gente no a San Pio Decimo perché era piena stasera e domani 250 però il linguaggio è quello e quindi ecco io quando faccio un film non lo faccio perché penso di combattere contro qualcuno io quando faccio un film penso di raccontare una storia che possa interessare il pubblico per me per come io sono nato io penso soprattutto al pubblico che va al cinema per cui per me il rapporto immediato è col pubblico che va al cinema però so perché ormai questo accade da decenni che c'è anche un pubblico che vede i film a casa e questo non è una novità delle piattaforme esistono ormai da diversi decenni e quindi quello che mi preoccupa di più è il riuscire a raccontare storie che possano servire essere utili al pubblico sia magari soltanto a livello di semplice distrazione intrattenimento o anche attraverso una linea un approccio più profondo nel senso appunto dell'utilità del film che possa aiutare anche il pubblico a rapportare a rapportarsi con la propria esistenza con la vita di tutti i giorni perché il cinema spesso ti aiuta a capire di più la tua vita la tua essenza il tuo modo di rapportarti agli altri al mondo e questa forse è la cosa più bella del nostro mestiere poi un bel film visto al cinema è un'esperienza unica non è la stessa cosa che vederlo a casa però un film tra l'ipotesi di non essere mai visto da qualcuno ed essere visto a casa va bene visto a casa l'ultima domanda che poi purtroppo mi dispiace ma poi devo andare buonasera maestro buonasera don Andrea grazie innanzitutto per aver organizzato questa proiezione meravigliosa infatti proprio per quello che diceva poco fa mi ritengo sinceramente fortunato di averlo visto qui anche sapendo che da lì a poco sarebbe arrivato lei in presenza quindi è stata un'emozione tripla direi io sono in tutta onestà ammaliato prevalentemente per una qualità che credo che lei abbia fortemente in comune con il maestro Morricone che è la la semplicità l'umiltà e quanto riesca a destrutturare quello che in realtà è un lavoro difficilissimo come quello del cinema così come un racconto così tanto sottile delicato e complesso perché comunque non è facile raccontare la vita del maestro Morricone in realtà riesca appunto a renderlo così semplice e così fruibile e questo per me è una qualità incredibile e forse è anche il segreto del successo dei grandi quindi questa è la cosa che io proprio ho visto in associazione col maestro Morricone di lei e mi ha colpito particolarmente e nonostante questa sua semplicità in realtà io ritengo che questo sia un tributo al cinema incredibile un tributo al mondo della musica un tributo all'arte in generale e quindi voglio ringraziarla profondamente per questo lavoro che ha fatto sono io a ringraziarla grazie grazie e le chiedo due cose la prima è presumo che fosse lei ad ascoltare direttamente il maestro Morricone frontalmente assolutamente assolutamente quindi è una cosa è una chiacchierata più che un'intervista una cosa che mi chiedeva mentre guardavo perché il maestro Morricone era molto a suo agio e questo si riconduce a quello che ha detto prima a quell'aneddoto di come si fa a far uscire il meglio dalle persone che si ha di fronte infatti sicuramente questo anche quando dirige gli attori presumo che sia qualcosa che metta in campo in pratica e si vede e l'ultima cosa che vorrei chiederle siccome mi capita spesso quando magari sono al cinema con un amico con un parente con chiunque di guardare il film che stiamo guardando insieme con gli occhi della persona che ho a fianco quanto è stato difficile per lei quanto le è capitato mentre giravate mentre eravate soprattutto al montaggio di guardare il film con gli occhi del suo caro amico Ennio beh sì è successo più volte in certe situazioni in cui il racconto delle immagini il montaggio doveva per mia scelta sottostare alla supremazia grammaticale della musica talvolta ho avuto dei momenti di difficoltà e dei momenti in cui mi sarebbe tornato utile Morricone e quindi in quei momenti lì cercavo di immaginare alla luce appunto dei tanti anni vissuti insieme delle tante cose fatte insieme cercavo di immaginare quale sarebbe stata la sua chiave il suo suggerimento e penso la maggior parte delle volte in questi momenti di difficoltà di essermela cavata quindi in qualche maniera è come se lui ci fosse stato sempre perché ripeto in quei trent'anni di frequentazione di collaborazione abbiamo discusso a lungo del cinema della musica e del rapporto tra questi due linguaggi era il nostro argomento preferito infatti annoiavamo sempre tutti quelli che stavano con noi a pranzo e a cena perché sapevano che avremmo parlato sempre di quella cosa lì però è stata una lezione veramente importante durata appunto più di trent'anni e quindi in qualche maniera mi ero attrezzato e quindi ci sono state sì tante difficoltà però credo più o meno di averle superate alcune bene alcune meno bene però credo di avercela fatta Allora salutiamo il maestro lo ringraziamo per la serata che ci ha donato per il fatto di essere venuto grazie a voi fedele alla promessa di interrompere alle nove e trenta ha una bellissima famiglia pure quindi salutiamo anche la moglie e la figlia chiaramente è è grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti